Quest'oggi facciamo il mostro delle nevi challenge, funziona in questo modo, Ferri è il mostro delle nevi e si vede già facile 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 E come funziona? Noi siamo obbligati a scendere in un posto delle nevi e fin lì è scontato, Ferri in quel momento potrà fightare, potrà fare quello che vuole Non avrà nessun tipo di limite o di problema, ma nel momento in cui usciremo dalla neve non potrà mai essere avvistata da un altro player Per tutto il resto del match fino a quando non vinciamo, perché? Perché il mostro delle nevi viene visto e diciamo scoperto nelle nevi appunto Nel suo habitat, ma nessuno ha mai avuto testimonianze in un posto fuori dalle nevi, di conseguenza nessuno sa che esiste lo Yeti o il mostro delle nevi appunto fuori dalla neve E di conseguenza li può essere visti solo nelle zone della neve, in modo tale che il segreto non esca fuori di lì, a meno che noi diciate voi, ma voi non dovete dirlo Se volete fare invece qualcosa potete andare nello shop su PortaCreditors2317, ci date una mano, dura 14 giorni mi raccomando, grazie mille a tutti, buona challenge e arrivederci Allora io sono molto in alto, quindi sto osservando e un team ce l'avete, di sicuro Ok E un altro team sta tipo andando a queste casette qua, disperse nelle montagne, che poi qui ne arrivano Quindi facciamo finta che siano due team fin da subito, però alla base abbiamo un solo team per ora Va bene, allora, uno va a capo noni, uno ce l'avete dietro, due sono su Ma chi? A questo, vai in tre Vai Ma raga, ma che cosa state facendo? Stai zitto tu, è una cosa importantissima Eccomi fatti Vai, 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 inseguilo C'è altra gente, capannoni, quelli sono armati Steph, quelli sono armati Steph, non è una buona idea Quello è armato E te l'ho detto che lì c'era gente armata Perché abbiamo fatto sta cosa? L'idea di Kong si sono il peggio Aiuto, raga, aiuto Io ho detto a Massimo, siete venuti voi due Dai, li ho buttati giù, giù Eh, io ero dietro Ok Oh, ci sono, raga, mi sono armata, dai Ok, tutti dentro questo edificio Ok Stavo lasciando Massimo Ha ucciso uno Ok, dentro l'edificio, non fai dati inutilmente Mi ha dato due kill, quindi un team è morto Ok Ottimo Però c'è tutto un altro team full, eh Però dai, almeno non ci siamo armati Sì Aiuto Dove? Sopra, sono tutti sopra Ok Uno giù Grande C'è un altro, c'è un altro Un altro giù Mamma mia, sterminati Uno No, ne manca ancora uno Sopra di voi Sotto Ok Mia lo scar Sì, sì, io ce l'ho Lo so Vabbè Bravi Però vi ho sentito un aereo, giusto? Sì, l'ho visto anche Era il tipo, era il tipo L'ho visto anche Era lo stesso tipo? Sì, ha fatto l'aereo Ok, ok Quindi manca un team, raga Che ci sta, tipo A nord Nelle montagne Che li ho visti scendere Che loro ci staranno Sì, sì, sì Lutteranno un pochettino Alla zona e arrivano da noi Gli ho proprio visti bene Perché è Renato Sì, arriveranno sicuro con le funi vie Quindi occhio Tanto noi abbiamo l'uomo delle nevi Sì, ha ammazzato tutti Cosa? Abbiamo 7 kill Quindi è rimasto un solo player Ma no Solo con lo sguardo ammazzato tutti 7 kill buone comunque Un sacco di gente c'era alla fine Vediamo se troviamo sto team Che li volevo fightare Erano qua Hanno luttato sto posto Ah, questo? Sì Sì Hanno preso il rift adesso Vedete? Sì, sono saliti Raga, ma se vi avvicino Rituriamo Aspetta che cambio posto Che l'acqua dietro non c'è 25-25 Di vita uno Altri 24 Ce n'è uno praticamente Che è morto, raga Questo? Sì, questo di fronte È giù Ok, andiamo via Bravi Final killiamolo Vai, ce la fate Di cattiveria proprio Nessuno ha pietà Con l'uovo delle nevi Vai, ci prendiamo al volo lutto Che mi devo dire? Giuro che non riesco a prenderlo Ok, vai Siamo poveri Vai, vai, prenderlo voi I compagni, i compagni Ovviamente Il tasso 46 Edshot Ok Uuuu Stamini che non la voglio E sparano sotto di noi Raga, sento un aereo? Sì No, i gongs Ok Sono qua sopra I città Uno giù morto Fiamme chi lati Raga, non andiamo notarli Andiamo via Andiamo via Andiamo via Andiamo via Sanno che ci siamo qua, eh? Sì, appunto Andiamo allora Chi manca di blu? Massi, Massi, Massi Vabbè Raga, ma hanno aterrato uno? Vai, vai, vai Parti Ah, non sta alcalire Lo sto adatto Ok, vabbè, gongs si arrangia, sì? Sì, sì, tranquilli Ok, penso che li sta anche chilando Perché mi sentivo in mezzo alla zona, sì Ho fatto headshot Verso qua? Non ho fatto Esattamente, sono lì Uno ha aterrato 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 Praticamente da una vita a terra A te, ragazzi No, io ti colpisce Lo io ti colpisce Sono morto io No, Massi, non sei morto Eh, c'è uno col Lo so, lo so l'ho visto È qui Steff Lo scudo Steff, aiuto Finiti Ok Ok, sto arrivando, sto arrivando Salvate la specie protetta Salviamo la specie protetta Mamma mia Ragazzi, questi qua non sono esplosivi Cosa? Da lì? Giuro che ho visto un colpo Non lo so Dicevo, mi sto estinguendo Quindi No, non puoi estinguerti Sto estinguendo Sono l'ultimo Della mia specie Quindi Muorio io, Steff Non esisterò Ho un main Ah, ok, vabbè Allora Allora, ascolta Dai Non so se dare il medikit a Massi O le bende a me Boh, ormai lo sto già tirando Ah, no Qua c'è una desert leggendaria Per il signorino Guarda E non ci sono shield, vero? No Il mio aereo non è esploso Perfetto E raga, io andrei Alla torre Sì, alla torre Alla montagna dei vichinghi Sì, raga Il problema è che io non ho più colpi Ve lo dico Di cosa? Di tutto Tieni Non riesco a fermarmi col ghiaccio, ok E anche Vabbè, piccoli Se non lascio stare Tieni Non ne ho Magari non posso combattere dopo Sì, vende Però saliamo Andiamo via Andiamo via Andiamo via Salite, salite Salite Siamo ancora nelle nevi Abbiamo un sacco di kill È un bellissimo match Quindi io per ora continuo a essere letale Poi dovrò smettere di giocare Ok, andiamo Fari, guarda che se hai fortuna Non devi neanche smettere di giocare Quindi Non essere pessimista No, infatti Dipende tutto dalla prossima zona Esatto Ah, qua hanno lootato Vabbè, erano due tipi Io raga, pensavo fossero quelli Che avevano lootato Quel posto che c'evo io Probabilmente erano loro Ma hanno lootato Sì, hanno fatto quel posto Preso la funia Hanno preso la funivia Che li porta a dire Sì, e quello aveva capita Non pensavo non avessero lootato Pensavo fossero più di fretta Era passato un po' Cioè, abbastanza tempo Ah, ma sì Io ti posso dare le bende Se ti servono Sì Il problema è che qua Ci servirebbero anche shield Cavolo Io ho uno scendino Vieni, ma sì La prossima zona è tutta fuori dalla neve Ok Allora io devo andare A riprendere il mostro delle nevi Aiuto, sono qui Troppo lato Lui mi devi portare a un posto freddo Dove c'è la neve Aiuto Staff Peggior Guidatore Ah Staff Cosa stai facendo? È tutto a posto? No, non è tutto a posto È tutto a posto? Staff, che stai combinando? Non parte Raga, sono due tutta plan Raga, come pretendete che io scenda lì? Eh, io non l'ho pretendo Ce l'ho fatta? Sei fatta? Vai, veloci Salite Non lo prende Cioè, il mostro delle nevi Lo blocca di faccia Ma non è preso Hai visto che frenata hai fatto Gonx, ma tu che fai? Eh, io sto aspettando che tu mi venga a prendere Beh, su un taxi sono Guarda Eh, Steph No Steph C'è un piccolo problema Siamo fuori dalla neve Quindi in questo momento dovrei pensare a nascondermi Non a stare visibile Arrivo, arrivo, arrivo Su un aeroplano Beh, Fede, ma chi ti vede? Ma sì che mi vedono Sono in un'ala Vuoi guidare? No, non voglio guidare Beh Però devi portare Va in altissimo, va in altissimo Esatto Chi vedrebbe mai così bene? Eh, dove nessuno mi può vedere Occhi di falco al massimo Ma qua non c'è occhi di falco Devo essere avvistata in queste zone Ma se ci buttiamo giù c'è l'altra plano, giusto? Sì Almeno dall'aereo Vai, vai ragazzi Nessuno ci può vedere, no? Suppongo di sì Dai, c'è Non stiamo neanche facendo rumore, quindi Che tattiche Ah, esplode in automatico il palloncino Vabbè certo, siamo troppo in alto Che altro a fare così? Andiamo in quella montagna? Sì, dai, così io inizio a farmi Mettiamo a fare lì La copriamo Così il mostro di nevi non viene scoperto Non c'è nessuno, giusto? Non sembra Ok, no, fai sconto Ok, piano, piano, piano Freno, freno, freno A est c'è gente Io mi nascondo qui dentro Rompiamo qua Posso sparare a un tipo a est se volete Vai, vai, vai Non più, non più Se aspetti però posso provare a check-inarlo Che ho Livi Scusa cosa che avrei fatto anch'io Ma io ho Livi Devi sparare esattamente a 88 Ok, li vedo Li vedo, li vedo, li vedo Dammi un attimo Vedo se si fermano Il Rift to go Non sappiamo chi è No Vale, credo che non siano mai più fermi, vero? No 12 vivi comunque Ragazzi Il Rift Molto vicino a noi Sì, vogliono rusharci con le Con la funivia, mi sa No, raga Che c'è? Ah no Cioè, non faccio li rushare Che io sono nascosta qui dentro Non posso fare nulla Sì, tranquilla Non mi possono vedere Ha Rift dato anche l'altro Raga, dobbiamo laserarli In modo tale che da noi non pensino a venire Ne avessi colpito Distraeteli Che ansia Morto uno Bravi Ma l'altro Dal mio letargo Faccio gli applausi No, erano due Diversi, ve l'ho detto Ah Faitano lì a est Sì Dovete vedere cosa sto facendo Eccoli giù dalla montagna Bravi Li vedete quelli che arrivano? Cerco di guardare Steph per capire che sta succedendo Così capisco quando muove E mi spostarmi Bravo, Gonx Grande Steph Un altro è morto Raga 4-1 4-1 4-1 4-1 Raga, devo fare una cosa Guardate Raga, guardate l'altro Troppo super Oh mio dio Incredibile Devo fare una cosa Potete avvicinarvi Perché io devo stare nascosta Quindi altrimenti non posso uscire Guardate Mi vedete? Mi vedete? Ci tenevo Siete stati tanto bravi Torno nel mio nascondiglio Addio Anzi ora mi devo pure muovere No, aspetta 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 Qua non dobbiamo rischiare più nulla Qua trovo una Dai E non si rischia nulla Che magari l'unico mi cecchina Dici Eh, appunto Non sprechiamo la challenge Ah, io mi copro Ho sparato per far cadere Quello robo Non è chiaramente lì Se volete posso tirare un portaforte Ci buttiamo giù con il jump Allora, Fere Dimmi Mi sto già muovendo Sì, sto creando La muraglia Per farvi vedere Ok, ottimo Ok, seguimi Dovo spostarmi per la zona Vedo l'ultimo Vedo l'ultimo, ragazzi Dov'è? Mi devo nascondere, raga Ok, lì mi nascondo Mi nascondo Allora, Fere Ti lascio qua coperta Vieni qua, vieni qua No, io mi sono sosta qui Vieni, vieni, vieni Aspetta Mi butto qua Non sembra una cima Ok Vieni Sì, ci sono, Steph 21, 21 21 bianco Ah, non mi ha visto, eh Non mi ha visto Perché a me non ha mai provato a sparare Quindi non mi ha notato Quindi Sto salendo vicino al burger Ok, Fere Qua sei dentro la zona Morto Non l'ho copito Ma Ma che Lag Sì Vabbè Andato 8, 12, 17 kill Ce l'abbiamo fatta Eravamo vincolati alla neve In tutti i modi possibili Fere non è mai stata vista da un player Che non è passato per la neve Non hanno mai neanche provato a spararmi Sono stata grandiosa Quindi nessuno sa che esiste il mostro delle nevi Voi dovete tenere il segreto Mi raccomando Ovviamente Altrimenti verrete uccisi Sapete come funziona Fere non essere così tanto cattiva Eh no, ma funzionano così sta roba Blochi gli aerei altrui Cioè uno vuole partire E tu blocchi l'aereo Perché Quello era il tuo scopo principale Oggi Cioè Bloccavi come non mai In ogni caso Ci fermiamo così Spero che il video vi sia piaciuto Qua sotto con voi altri video Iscrivetevi al canale Campanellina E ci vediamo al prossimo video Ciao ciao